Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi pare di venire immerso in un oceano di pace e di coraggio quando sento cantare queste parole. Sono le parole del Salmo che io chiamerei delle mie certezze. Sì, ci sono giorni sereni in cui il salmista mi indica chi lo dare e ringraziare. E' il Signore, Lui che è davanti a me, ma che sta anche al mio fianco, anzi vive in me e con me, mi precede, mi circonda, mi abbraccia con il suo affetto. Ma ci sono anche giorni di fatica. Sì, ci sono giorni di fatica. Ma ci sono anche giorni di fatica. E queste stesse parole mi indicano in chi confidare. E' il Signore. Lui che sta davanti a me, in modo che io lo possa vedere e seguire. E' il Signore che ci ha predisposto ogni cosa per il bene mio, il bene della Chiesa, il bene di tutta quanta l'umanità. E' il Signore che ci ha predisposto ogni cosa per il bene mio, e' l'ind Firestone. E' il Signore che ci ha chiesto. C'è l'induclante. E' il Signore che ci ha caduto ogni cosa per il bene mio,